Riflettere sulle leggi razziali fasciste nell'ottantesimo anniversario della loro promulgazione. Questo l'obiettivo dell'incontro promosso dall'Associazione Nazionale Ex Deportati nei Campi Nazisti di Altavilla Silentina, presso la sede dell'Associazione in piazza Don Giustino Russolillo in località Cerrelli. Una riflessione sulle disumane ed inenarrabili conseguenze delle leggi razziali del 1938, che si terrà questa sera a partire dalle 19.30 e alla quale prenderanno parte il presidente dell'ANED Germano Di Marco e il sindaco di Altavilla Silentina Antonio Marra.